buona sera cari amici toscana sprint il castello malaspina che sovrasta la location che ospiterà la gara di oggi ovvero la gara riservata alla categoria giovanissimi quella affos di nuovo per la mountain bike cross country per il venticinquesimo trofeo graziano battistini vediamo in lontananza anche lo stretto di porto venere tra l'altro nel dettaglio c'era una piccola cucciolo si poteva vedere la chiesa di san pietro altra caratteristica di porto venere bellissima località in provincia di la spezia questo che state vedendo è il luogo che ormai ospita da tre anni perché il primo anno che fu riportato i giovanissimi affos di nuovo era il 2020 era praticamente agosto del 2020 subito dopo il periodo di quarantena del covid il pedale sarzanese che proprio in quell'anno con quello che vedete in immagini ivan stagnari con il presidente carlo bianchi e con tantissimi altri volontari dietro a riporta diciamo aveva riportato sul pedale sarzanese con i giovanissimi e al 2020 organizzava il trofeo graziano battistini con i giovanissimi un percorso che era diverso nel 2020 un percorso che era un anello nel campo praticamente sportivo di fos di nuovo e che invece dal 2021 si è evoluto in questo bellissimo campo nel 2021 e 2022 questo campo di allenamento hanno visto tra le altre le gare anche per le categorie esordienti ed allievi quello che state vedendo sono le immagini della riunione dei direttori sportivi quella classica chiaramente il duo che sarà a dirigere le operazioni sarà il duo formato palma e tarantola che stavano spiegando i vari dettagli della corsa ai vari direttori sportivi e sono già pronti a partire il la prima batteria no la i promozionali tra parentesi che non è una categoria agonistica ricordiamo che verranno premiati tutti i bambini alla fine della manifestazione partiti li ricordiamo anche i giovanissimi erano otto pierlo faro della bicicamogli golfo paradiso gaia bernabò del pedale sarzanese sempre del pedale sarzanese matteo odaglia tommaso tonarelli sempre il pedale sarzanese poi tommaso grelle michelangelo milanesi del pedale senese matteo piccariello del team valdiniero e azzurra rossi della pian di moglio speedy bike stiamo vedendo proprio il passaggio sotto il traguardo loro facevano il percorso più piccolo due giri del percorso più piccolo tre differenti percorso piccolo percorso medio e percorso lungo che verrà affrontato invece dalle categorie superiori come abbiamo detto no grande impegno parte del pedale sarzanese intanto sta chiudendosi la prova dei promozionali come stiamo vedendo eccolo piano piano prima aveva tagliato tommaso tonarelli il traguardo adesso qui si tratta di tommaso grella quella che sta arrivando ora è azzurra rossi della pian di momio speedy bike questi bambini che veramente danno tutto ricordiamo non c'è classifica quindi vengono premiati assolutamente tutti quello michelangelo milanese del pedale senese poi è passato anche matteo piccariello del team valdinievole ora matteo daia del pedale sarzanese che arriva anche lui verso il traguardo vediamo che è arrivato anche simone mannelli della della corte delle visioni di conti della federazione ciclistica italiana ovviamente sempre vicino comunque alla società del pedale sarzanese stiamo vedendo poi si sono schierati anche i g1 che percorreranno sempre due giri del percorso più corto del percorso più corto stiamo vedendo partiti sono un drappello come possiamo vedere un po ristretto tanto andiamo anche con i ringraziamenti ringraziamento ovviamente al pedale sarzanese che ringrazia il gruppo sportivo graziano battistini fos di novo per l'aiuto e al comune di fos di novo poi 20 vari sponsor ringraziamento alla isodata all'albergo ristorante pizzeria alla castellana alla coccinella al panificio panna al panificio bertone questi alcuni sponsor intanto stiamo vedendo il i vari passaggi quando è suonata la campana quindi è l'ultimo giro vedremo come si andrà a concludere poi questa prova e l'ordine di arrivo di questa prima categoria che è anche come abbiamo detto tante volte agonistica intanto c'è stato l'arrivo arrivo che ha visto vittorioso lorenzo capizzi del pedale senese davanti alessio martinelli del vero club carara 1961 terzo gabriele nanni del team stradella quarto francesco bertone del team valdinevole quinto nicolas pantelli del pedale sarzanese per la g1 femminile invece la compagine femminile è stata anna lambruschi del pedale sarzanese da giudicarsi la corsa e abbiamo un po rotto il ghiaccio con la prima batteria si cambia un po il percorso si va sul percorso medio con questi g2 che si stanno un po schierando g2 categoria come possiamo vedere molto molto più folta per la categoria g2 erano pensate 15 iscritti partiranno in 14 ma da solo uno altri ringraziamenti per la tendola cycling per l'agenzia immobiliare il sole per il consorzio global macelleria augusto sono anche loro sponsor di questa manifestazione e intanto sono partiti i g2 che percorreranno esattamente del percorso medio perché abbiamo detto si cambia due giri del percorso medio nel percorso medio nel dettaglio prime curve e adesso si svolterà tra un pochino a destra e si inizierà a salire sulla salita che c'è vediamo un po anche anche ringraziamento anche la pubblica assistenza di post di nuovo presente ovviamente intanto stiamo proprio vedendo nel dettaglio la salita questo strappo che verrà affrontato anche nelle categorie superiori c'è un po come diciamo no tutte volte il ma mountain bike sta prendendo sempre più piede il fuori strada nei giovanissimi qualcosa ovviamente bisognerà qualcosa li attira probabilmente perché c'è anche più divertimento perché quando si viene a delle gare di mountain bike c'è veramente poco agonismo mentre invece magari su strada si tende sempre di più a esaltare l'agonismo intanto vediamo siamo primi passaggi primo passaggio gruppo veramente un po sfilacciato e adesso sfilacciato chiaro con quella salita poi si scende subito anche qui nel dettaglio no per imparare a fare le curve abbiamo visto tanti direttori sportivi prima della gara portare bambini proprio a senza bicicletta piedi a insegnare come impostare le curve cosa molto importante tanto primo passaggio come vedete il prossimo giro ci sarà l'arrivo ecco gianni tendola che anche lui presente intanto vediamo proprio l'arrivo eccolo l'arrivo vittorioso di francesco bernabò del pedale sarzanese seconda posizione riccardo capizzi del pedale senese davanti al compagno di squadra giovanni fabiani del pedale senese arriva ora in questo momento della orange bike nicolo fianco al quarto posco quinto invece gabriele salteri del pedale sarzanese sesto edoardo polverino del pedale sarzanese settimo nino lo faro della bici camoglio golf paradiso ottavo jacopo rossi della pian di momio speed bike nono filippo fonte basso della berti mobili benassi decimo alessandro lencioni della pian di momio speed bike questi sono i primi 10 della g2 mentre per la g2 femminile non erano presenti quindi questi erano quelli da che abbiamo ricordato erano gli atleti tanto si stanno concludendo ed eccolo qui che stanno passando piano piano un applauso veramente a tutti questi bambini che hanno comunque chiuso la loro prova una mattina veramente un pomeriggio caldo è tornato purtroppo il caldo a settembre sono dato si stanno schierando piano piano anche i bambini della g3 stiamo piano piano vedendo noi ricordiamo anche gli altri ringraziamenti alla lunigas alla jobs in italia la bruttini spa alla assi ligure insurence alla banca mediolanum nella conferenza di scarara alla frantoio moro alla azienda agricola vinicola terenzuola e intanto è partito è partito anche la categoria g33 giri del percorso medio come abbiamo visto dicevamo alla fine della gara verrà dato anche un ringraziamento a tutte le società che hanno partecipato verrà dato una bottiglia di vino dei produttori del vermentino della zona quindi uno dei vini più veramente buoni in questa zona come ogni anno e viene data e loro hanno sempre voluto premiare tutte le società che hanno partecipato quindi intanto stiamo vedendo prime battute prima volta la salita con questa che io chiamo sempre la curva negli altri anni era più prima perché c'era anche esordienti allievi quindi era un altro discorso però è comunque c'è tanta gente c'è stato pubblico le società non sono assolutamente mancate siamo quasi a 100 corridori quasi a 100 corridori partiti in totale intanto vediamo l'atleta del pedale sarzanese che ha preso la testa della corsa in questo momento vedremo poi che cosa succederà però era un drappello di testa formato da un corridore poi c'erano 4 3 4 corridori che stavano inseguendo quindi vedremo anche cosa succederà ricordiamo che è valida questa gara come il 25esimo trofeo graziano battistini graziano battistini ex professionista tra le altre ha vinto due tappe al giro d'italia e nell'anno in cui vinse castone nei cini 1960 il tour de france lui si aggiudicò due tappe ed è fu un fidele scudiero della dell'atleta e questo ovviamente che fa sempre il gruppo sportivo graziano battistini che si è affiancato al pedale sarzanese sponsorizzando insieme anche al comune di fosinovo questa manifestazione intanto nel dettaglio stiamo vedendo il passaggio subito dopo il traguardo queste prime curve qui un'altra parte in cui vediamo proprio affrontare la salita eccolo come ci arrivano guardate veramente di slancio e l'atleta del pedale sarzanese occhio perché da dietro rinviene un atleta del pedale senese poi tra il team valdinevole pedale senese che anche loro sul multidisciplinare tra l'altro pedale sarzanese che quest'anno parlavo del pedale senese ma ora sono passato un attimo al pedale sarzanese abbiamo trovato tante volte i bambini del pedale sarzanese alle gare su strada loro sono nati come fuoristrada e ancora prediligono le gare su strada le gare sul fuoristrada però da quest'anno veramente loro non hanno mai impedito intanto c'è l'arrivo vittorioso gli applausi per lui di neri tardivo del pedale senese davanti a dario piccariello e a francesco capodimonti rispettivamente team valdinevole per piccariello e pedale senese per capodimonti poi quarto leonardo biassoli quinto francesco tonarelli tutti e due del pedale sarzanese sesto marco sante lunardi del team valdinevole settimo diego fiorentini del team stradella ottavo emanuele pardini della pian di mombio speedy bike e decimo e nono è gabriele tonarelli della berti mobili benassi mentre per quello che riguarda la g3 femminile è quella che sta arrivando ora la vincitrice erene benedetti del gruppo sportivo berti mobili benassi dicevamo prima che stavo spiegando che il pedale sarzanese da quest'anno ovviamente ha una compagine molto forte di quella che è il castello di malaspina abbiamo anche visto all'inizio che quest'anno veramente abbiamo visto che i bambini vanno anche su strada erano presenti ad esempio alla gara ricordo di marciana la gara ovviamente per giovanissimi dove di solito c'è il giro delle due province a marciana invece furono veramente presenti e poi c'erano anche dei buoni risultati questo perché perché i ragazzi comunque piano piano vogliono anche provare la bicicletta da strada però questa è una bella cosa pensate che sono tutti i bambini che hanno iniziato con la mountain bike e poi piano piano hanno iniziato a dire proviamo anche su strada quindi può nascere anche una passione poi magari qualcuno rimarrà sulla mountain bike magari qualcuno passerà direttamente alla strada e comunque il pedale salzanese che non ha detto no facciamo solo il fuoristrada cioè se diciamo di fare la multidisciplina questa è una cosa che secondo me è un pensiero che deve passare su tutto intanto ha preso via anche la g4 g4 che percorreva esattamente 3 giri del percorso lungo abbiamo cambiato strada e anche il percorso è stato leggermente vediamo aperto la strada il percorso per salire subito dicevamo del fatto che per quello che concerne la multidisciplina io sono dell'idea che dovremmo secondo me andare a fare proprio come stanno facendo loro il pedale salzanese ovvero cercare di non obbligare no il ragazzo a fare una cioè fargliela provare secondo me si perché è importante che i ragazzi provino tutte le discipline poi ci può essere quello che dice a me piace di più il mountain bike fuoristrada a me piace di più il ciclocross a me piace di più la strada poi magari crescendo quello che fa la strada può dire mi piace la pista e quindi proviamo alla pista anche cioè io dico sempre non diciamo come invece ci sono no no non facciamo fuoristrada perché dobbiamo andare su strada perché è più importante la strada vincere intanto ultima curva per due uomini due ragazzi che sono al comando in questo momento sono due atleti andiamo a prendere si tratta di odai e fabbri sono i due atleti che erano al comando ci sembravano loro i due atleti che erano al comando in questo momento poi stanno passando piano piano anche gli altri atleti dietro eccolo qui ancora nel dettaglio altra parte del percorso che stiamo andando a riprendere vediamo un po' di difficoltà ora l'atleta del borgo novo con che si è staccato letteralmente dal corridore della sale del pedale sarzanese proprio in salita e occhio perché dietro c'è un'altra maglia del pedale sarzanese che sta rinvenendo eccolo che passa ora odai e poi vediamo chi passa alle sue spalle il compagno di squadra il compagno di squadra michelucci che è riuscito a passare fabbri poi altra maglia sembrava del sembrava un'altra maglia schiara però vedremo ora che cosa succederà in questa categoria erano tante anche le bambine pensate sei bambine occhio perché c'è la volata all'arrivo vittorioso primo e secondo per il pedale sarzanese che festeggia bravo anche fabbri primo o daia francesco daia del pedale sarzanese secondo eduardo michelucci del pedale sarzanese terzo andrea fabbri della borgo novo quarto leonardo cagnoli sarzanese l'avevamo detto c'era una maglia della sarzanese quinto leonardo milanesi pedale senese sesto nicola garci della bici camogli golfo paradiso settimo mattia sottile del pedale senese e ottavo giammaria berti della berti mobil benassi per quello che concerne la categoria g4 femminile la vittoria è stata di susanna vollero del pedale sarzanese che ha vinto la sua categoria davanti a reia pierotti della pian di momio speedy bike a l'ora giusti poi gretta righi e l'ora santucci rispettivamente santo e l'ora giusti e santucci e l'ora della berti mobil benassi greta righi del team stradella intanto stiamo vedendo anche la conclusione delle altre degli altri degli altri che stanno passando altro bellissimo scorcio del lo stretto di porto venere veramente quando vediamo quelle immagini no io dico sempre che qui a post di nuovo c'è sempre una cosa perché poi tra l'altro cioè quando si va in un posto del genere e puoi vedere uno stretto come quello di stretto come porto venere io credo che c'è poco da dire intanto siamo passati allo schieramento della categoria g5 g5 che percorrerà c4 giri del percorso lungo 4 giri del percorso lungo abbiamo visto un percorso un po più diverso perché quando si arriverà a scendere non si scenderà direttamente verso l'arrivo si scende si andrà a diritto giù nel bosco ci sarà un piccolo salto da fare poi si ritornerà si dovrà salire nelle ultime curve quindi un po un percorso anche abbastanza impegnativo anche tecnico ma anche molto impegnativo quindi vedremo partiti in questo momento sono partiti g5 quindi quattro giri del percorso lungo da affrontare per la categoria g5 stiamo vedendo sono partiti veramente forte ecco li vediamo subito forte è un atleta della el babai dovrebbe essere niccolò mauro che ha preso subito cerca di fare il forcing tra l'altro uno degli atleti che sicuramente può far molto bene altri ringraziamenti andiamo con il ringraziamento ringraziamento al smaccabiliamento al podere al podere lavandaro alla trattoria quinta terra alla rc e foto alla tua assicurazione agenzia massimo applicanti alla maracci stefano e alla pizzeria il selvatico di fossi nuovo questi altri ringraziamenti ovviamente della corsa intanto ultima curva proprio con il battistrada con niccolò mauro che viene seguito da tommaso pegoraro della formazione del pedale sarzanese poi c'era anche un atleta del pedale senese deve essere niccolò grella che stava inseguendo questo che è passato ora nel dettaglio della piano di momio speedy bike dovrebbe essere matteo verdini che è passato sta passando anche un'altra maglia del pedale sarzanese tre giri alla conclusione quindi primo giro affrontato per loro quello che passa ora è giacomo maffei della piano di momio speedy bike anche lui che di momio speedy bike che da l'arte anche loro hanno un posto bellissimo per praticare la multidisciplina quindi veramente molto bello questo invece che sta passando è giosue bertoncini della garfagnana mountain bike poi voglio anche dire un'altra cosa soltanto mentre vediamo anche il passaggio di gabriele benedetti la berti mobili benassi del fatto del pedale sarzanese che una cosa importante sono i genitori perché veramente i genitori danno una grandissima mano anche per le manifestazioni per la riuscita di tutti comunque i ragazzi dal primo all'ultimo ricevevano comunque tutti la medaglia anche se arrivavano anche se arrivavano ultimi comunque veniva venivano premiati tutti dal primo all'ultimo altri passaggi in questo momento è passato ora in questo momento un'altra maglia del veloclub veloclub carrara si tratta di giacomo toscano del veloclub carrara 1961 tanto niccolò mauro ha aumentato il suo vantaggio il suo margine su tommaso pegoraro del pedale sarzanese che stava inseguendo poi questo dovrebbe essere sempre grella del pedale senese stiamo solo aspettando veramente l'arrivo manca veramente ormai siamo nelle battute finali di questa batteria della g5 abbiamo detto maschile altri passaggi in un'altra parte qui siamo nella parte che dicevamo interno bosco dove dall'arrivo non lo puoi vedere poi sbucano fuori eccolo qui entrano un po nel bosco escono c'è un piccolo salto da fare escono fuori quindi a momenti vedremo qui si risale verso quello che è la parte finale del del percorso adesso andremo anche a vedere quello che sarà poi l'arrivo vediamo che si danno battaglia veramente tanto a grella che è stato raggiunto anche da un'altra attreta della pedale sarzanese che ora ma che sta cercando di recuperare sul mauro niccolò dell'elba bike che arriva ora in questo momento vittorioso niccolò mauro dell'elba bike che va a vincere dovrebbe essere pegoraro eccolo qui che sta per tagliare il traguardo seconda posizione tra gli applausi comunque il latte del pedale sarzanese tommaso pegoraro poi terza posizione giovanni ferrari del sempre pedale sarzanese quarto lorenzo caffa sono primi secondi terzi quarti del pedale sarzanese quinta arriva ora niccolò grella del pedale senese sesto daniele nassi del pedale sarzanese settimo matteo verdini della pian di momio speedy bike ottavo michele fantelli del pedale sarzanese nono gioia le cicero della pedale sarzanese e decimo giacomo maffei della pian di momio speedy bike questi ovviamente sono i primi 10 della g5 maschile g5 femminile che g5 femminile che non era presente quindi non è stata premiata nessuna adesso vedremo quella che sarà una gara finale poi la classifica anche a squadre quindi stiamo vedendo proprio gli ultimi arrivi per quello che concerne la categoria g5 prossima sarà la g6 ovviamente a chiudere questo 25esimo trofeo graziano battistini organizzato abbiamo detto al pedale sarzanese con l'aiuto del gruppo sportivo graziano battistini fosinovo e dal comune e ovviamente con l'aiuto anche della comune di posti no della vicinanza della federazione ciclistica italiana oggi era presente simone mannelli della corte televisioni dei conti della federazione ciclistica italiana intanto si stanno schierando i g6 categoria molto folta quella dei g6 che andrà a chiudere questa gara saranno 18 g6 che percorreranno cinque giri del percorso lungo e vedremo chi si aggiudicherà a quest'ultima gara sia maschile che femminile poi la classifica della a squadre con il punteggio pronti via sono partiti partiti assolutamente in questo momento la categoria cartello che stiamo vedendo cinque giri alla conclusione per cinque giri da percorrere la conclusione partiti eccolo qui sono partiti veramente forte sulla prima rampa stiamo vedendo veramente l'hanno aggredita la salita come si dice in gergo perché come diciamo sempre questi ragazzi prossimo anno passeranno esordienti quindi altra volta saranno sulle maglie della polisportiva quigliano bike marchisio che sono messi davanti se ne sarzanese lì per inseguire il battistrada c'è un corridore ora al comando nel dettaglio lo stiamo vedendo l'altra parte del percorso quindi a momenti passerà davanti la nostra telecamera nel dettaglio eccolo qui passalo ad identificare leonardo lugani che era in prima posizione che stava cercando di andarsene in seguito da un atleta del pedale sarzanese poi stanno passando via via tutti anche gli altri eccoli qui piano piano passata anche maria medici che è una delle due donne in gara quest'oggi eccolo qui stiamo proprio vedendo un'altra parte del del percorso e come abbiamo detto una parte che probabilmente anche dal pubblico viene apprezzata di più visto che è all'ombra e con le temperature che ci sono qui a post di nuovo e come sono ritornata a salire eccolo qui no il piccolo dettaglio ci fa vedere anche il nostro cameraman oggi daniele ciampi che sta che arriva ora il primo in questo momento sempre la gara guidata da leonardo lugani come possiamo vedere adesso c'è in seguito da un compagno di squadra compagno di squadra quindi abbiamo visto dovrebbe essere potrebbe essere mannino che sta in seguendo il corridore e zunino in realtà era zunino che stavano seguendo il battistrada tanto altri che sono arrivati che stanno arrivando qui nel dettaglio chiaro che la mountain bike aiuta molto a imparare a conoscere il proprio mezzo e a saperlo guidare molto molto bene poi vedremo anche chi sarà intanto siamo qui un'altra del dettaglio sono sempre mai della polisportiva quigliano bike marchiso che stanno guidando la corsa in questo momento c'è un atleta della elba bike lorenzo sardi che sta in questo momento inseguendo il battistrada poi piano piano stanno passando anche gli altri ad inseguire passato anche orifici della ucla eccolo qui il primo in questo momento si tratta di zunino simone zunino che sta facendo l'ultima curva insomma sta veramente dominando è ultimo giro è ultimo giro si va verso quindi quello che sarà un arrivo probabilmente in parata perché alle sue spalle vediamo che sembra che sia riuscito sempre lugani a mantenere la seconda posizione passato vediamo anche un po ora stanno passando al passaggio sono diversi altri atleti però dobbiamo dire che è veramente veramente andato forte il corridore zunino che è riuscito tra l'altro uno dei più forti della categoria per quello che riguarda la mountain bike zunino passa ora vediamo c'è una lotta anche per vincere due erano due le atlete femminili maria medici del pedale sarzanese che è passato ora e amelie cerise della orange bike team quindi lotta anche tra di loro per aggiudicarsi la corsa per la g6 femminile piano piano stiamo vedendo tutti i passaggi perché ragazzi è l'ultimo giro è l'ultima tornata per aggiudicarsi questa corsa infatti vediamo il suono nettamente della campana che decreta è l'ultimo ed eccola qui l'arrivo in parata vittoria per zunino simone zunino la polisportiva quigliano bike marchisio arriva ora in questo momento lorenzo sardi della elba bike seconda posizione per lui terza posizione arriva ora leonardo lugani protagonista anche lui da polisportiva quigliano bike quarto filippo belloni della villa franca quinto mario rifici della ucla sesto lorenzo cocchi del pedale sarzanese settimo claudio fianco della orange bike ottavo leonardo asti della pedale sarzanese nono libero mario maffè della piano di momio speedy bike intanto vittoria per amelie cerise della orange bike davanti a maria medici del pedale sarzanese questi sono chiaramente gli arrivi si va veramente a quella conclusione di questa giornata la classifica squadra è stata vinta la pedale sarzanese che ha rinunciato la classifica punteggio quindi è stata vinta dal pedale assenese a 21 punti davanti alle aberti mobile benassi 10 punti alle bike 9 abbiamo ricordato che il pedale sarzanese ha rinunciato si conclude veramente con queste immagini il 25esimo trofeo graziano battistini organizzato ancora quest'anno con grande impegno dal pedale sarzanese e con l'aiuto del gruppo sportivo graziano battistini fos di nuovo dal comune fos di nuovo e da tutti ovviamente gli sponsor che hanno dato una mano alla manifestazione quindi noi con queste immagini vi lasciamo e vi salutiamo e vi lasciamo anche alle interviste di rito con i protagonisti siamo con simone mannelli della corte delle visioni dei conti della federazione ciclistica italiana qua a fos di nuovo per ormai una gara annuale no l'appuntamento con la mountain bike che il pedale sarzanese ripropone ogni anno sì siamo in un contesto di una manifestazione bellissima in uno scenario fantastico con un tempo che ci ha ragazziato e è una gioia vedere questi bambini impegnati con un sorriso che quando arrivano sorridono non ce n'è uno che è arrabbiato e è di qui che si comincia per cominciare a fare le cose serie ecco qualcosa che si va sempre nel cambio no prima era la strada ora la mountain bike per i giovanissimi sembra prendere più spazio e chiaramente per per l'attività giovanile l'attività in fuoristrada è più appetibile è più sicura è più è più bella più divertente quindi sicuramente per per intraprendere un cammino nel mondo del ciclismo questo è il modo migliore e poi crescendo si vedrà cosa vorranno fare questi ragazzi siamo con il sindaco di fos di nuovo camilla bianchi è qui ormai un appuntamento annuale no si è un po spostato di un mese si faceva ad agosto quest'anno a settembre però il trofeo graziano battistini anche quest'anno ha portato tantissimi bambini qui a fos di nuovo anche quest'anno avete dato il vostro la vostra vicinanza alla sarzanese sì sono felice e contenta di avere bambini qua a fos di nuovo perché quando lo sport lo fanno i bambini c'è anche un valore aggiunto ecco speriamo di trovarli campioni domani diciamo così quindi l'educazione allo sport dei bambini è importantissimo c'è una grande partecipazione tanta gente tanti bambini contenti spero contenti di aver gareggiato al di là nella vittoria ecco cioè che ci sia veramente questo spirito del divertimento perché questo è importante almeno nei bambini ecco poi tra l'altro in uno scenario bellissimo perché il percorso è sovrastato dal castello dei malaspina che è un fiore all'occhiello del vostro comune sì beh questo noi abbiamo la fortuna di avere un campo sportivo con vista castello diciamo così e dove si svolgeva la gara ecco è una zona è una zona sotto il castello quindi anche nelle pause ora che è finito chi vuole può andare o a vedere il castello nel festival che c'è in questo momento quindi insomma offre fos di nuovo offre sempre tanto in questa coda di estate perché oggi è una giornata estiva ecco non state che siamo a settembre ci sta benissimo siamo con fabrizio minuciani del gruppo sportivo graziano battistini di fos di novo ma da 25 anni no si ricorda graziano battistini però da quattro anni questi bambini qui a fos di novo riempiono veramente un bellissimo borgo dell'unigiana è vero sì innanzitutto vogliamo ringraziare tutti i volontari che altrimenti non sarebbe possibile fare questa bella manifestazione la vabb gli alpini la pro loco tutti siamo contenti di questa manifestazione che attira veramente tante persone perché questi bambini si portano dietro tutte le famiglie parenti è proprio una bella manifestazione oggi avevamo paura perché in concomitanza c'era un altro evento importante che è fos di nuovo idea ma forse la gente arriva più tardi è riuscita bene lo stesso bella la gara contenti tutti e speriamo in meglio anche quest'altrano e non so noi siamo soddisfatti come gruppo per ricordare il nostro campione che graziano battistini che è nativo di fos di nove poi è sempre stato molto attaccato al suo paese con questa gara tendiamo ricordare i vansagnari del pedale sarzanese insomma un grande impegno si conclude diciamo l'organizzazione no del pedale sarzanese 2023 era già stata una gara prima di questo appuntamento che però possiamo dire a fos di nova avete comunque spostato solo il mese però è stato anche quest'anno portato avanti il trofeo graziano battistini a fos di nuovo sì questa era un po l'ultima gara nostra della stagione quest'anno per concomitanze di calendario è finita a settembre devo dire che per la data del 9 settembre abbiamo fatto più di 100 partenti e siamo siamo contenti perché non era facile per il futuro penso che cercheremo di cambiare data perché noi dobbiamo sempre cercare di fare una data dove non ci sono gare in Emilia perché questa gara qua ad alcune società emiliani piace sempre quindi sono sempre venute negli ultimi tre anni questo è il quarto anno e sicuramente sarà importante vedere bene la collocazione in calendario siamo siamo contenti il percorso vediamo che piace quest'anno devo essere sincero oltre al ringraziamento al comune di fos di nuovo al gruppo sportivo battistini e agli sponsor che ci sostengono devo ringraziare anche un gruppo di nostri genitori perché per impegni un po' nostri anche del direttivo non avevamo molto tempo a dedicare la gara quindi abbiamo così chiesto se i genitori volevano andare a mano e devo dire che c'è stata una risposta forte nel voler fare la gara e quindi diciamo siamo contenti dell'aiuto che abbiamo avuto e anche della riuscita della gara. Una gara che come detto porta tantissimi bambini qui a Fosinovo e non vi è mai mancato comunque il loro apporto perché avete iniziato nel 2020 proprio l'anno della pandemia del covid e loro sono sempre stati vicini e continuano oggi presente era anche il sindaco Camilla Bianchi quindi segno che è forte il legame tra il pedale sarzanese e Fosinovo. Sì io devo ringraziare l'amministrazione comunale di Fosinovo il sindaco Camilla Bianchi ma anche oggi non è presente l'assessore Paola Gagliati che c'è sempre vicino noi sì si chiamiamo pedale sarzanese ma come potete vedere siamo il Fosinovo il comune praticamente attaccato a Sarzana quindi questo sembra quasi un po' un unico territorio quindi sembra essere per noi anche essere un po' in casa e poi la gente a Fosinovo penso ci venga sempre volentieri un percorso il nostro che ha un panorama un tramonto dove si vede Porto Venere si vede il mare quindi anche per le società che vengono da fuori un luogo sicuramente un po' diverso a volte di qualche gara magari dei giovanissimi che ci mancherebbe sono belle ma sono in qualche zona industriale giusto a 40 gradi qui magari hai anche un po' di panorama e c'è anche la possibilità di visitare anche il castello quindi io ringrazio tutti e do appuntamento al spero al 26esimo trofeo Graziano Battistini Grazie! Grazie!